2 a 2 dell'Inter a Madrid nella tana della Tigre Real. Bolchi allunga Masiero e l'ala destra nera azzurra non perdona. Ecco l'azione del primo gol dei milanesi vista dalla macchina da presa appostata alle spalle del portiere madrileno. Esultano gli italiani e al 27esimo minuto Hitchens raddoppia. E' ancora più bella questa seconda rete osservata dallo stesso punto di vista di prima, con la palla che passa fra le gambe di Arachistai. C'è da impazzire di gioia per i nostri tifosi, ma nella ripresa il Real ha un'impennata d'orgoglio. Puskas cala sulla palla come un falco e benché sbilanciato la manda a rotolare in fondo alla porta. Ecco ora l'azione del gol vista dall'alto. Ed ecco il serrate del pubblico madrileno. Dialogo di Stefano e De Sol, 4 minuti dopo. Quindi si inserisce Puskas e la palla del pareggio taglia il traguardo della linea bianca. Osservate ora come l'ungherese ha sbilanciato il nostro Bugatti. 2 a 2, una partita di enorme interesse.